A Videotop è tempo di cinema su grande schermo e allora questa settimana il film protagonista è Before Midnight firmato dal regista Richard Linklater. Ritroviamo Jesse e Celine nove anni dopo il loro rendezvous parigino, a 18 anni dopo il primo incontro a Vienna. Sono rimasti insieme e stanno trascorrendo una vacanza in Grecia con le loro figlie. Stavolta però il loro rapporto è approdato ad una fase cruciale perché le difficoltà del quotidiano e la routine hanno contribuito a segnare in qualche modo quello che c'era tra loro. È di scena questa settimana Before Midnight. Non so, questo posto è così ricco di mitologie e tragedie, a temevo sarebbe successo qualcosa di tragico. Ancora lì, ancora lì, andato. Non la smetti di adocchiare le ragazze. Io non adocchio le ragazze, io faccio l'amore con i miei occhi. Wow, sto con un eterno Peter Pan. A chi la passo? A chi la passo? Ti sento vicino? Sì? Ma a volte non so, mi sembra come se tu respirassi Elio e io ossigeno. Cosa te la fa dire? A parte la salute. Potevi dire qualcosa di romantico e non l'hai fatto. Ok, tu sei il sindaco della città dei pazzi. Lo sai questo? È così che le relazioni finiscono. Oh mio Dio. Glielo assicuro. Il ragazzo tenero e romantico incontrato in treno di cui ha un lungo ricordo. Sono proprio io.